Eccoci qui per una nuova avventura televisiva. Presto! Le luci della ribalta si accenderanno sull'edizione 2024 di un reality che ci ha sempre tenuto con il fiato sospeso. Stiamo parlando dell'emozionante isola dei famosi. Quest'anno. Ci sono delle novità davvero succose. E una di queste è la scelta della nuova guida del programma. Che promette scintille. L'isola dei famosi 2024. Vladimir Luxuria apre le porte a una celebrità del GF. La direzione del gioco si rinnova. Puntando su una conduzione che si dice sarà fresca e dinamica. Ci sono voci di corridoio che parlano di una possibile nuova figura nel team. Una persona amata dal pubblico. Che potrebbe portare un tocco di brio tra i commentatori. Si mormora che la nostra beniamina dei reality passati. Nota per il suo spirito battagliero e la sua capacità di stare al centro dell'attenzione. Potrebbe essere la scelta giusta. Sì. La stessa che in passato ha vissuto la casa del grande fratello con un'intensità unica. Lasciando il segno con la sua personalità forte e decisa. La domanda sorge spontanea. Chi sarà l'inviato o l'inviata dell'Honduras? Questo mistero tiene tutti in sospeso. Mentre i nomi si susseguono giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il timone del gioco. Si dice che ci saranno delle scelte audaci e che il cast potrebbe essere un misto intrigante di personaggi. Si parla di una durata più compatta. Ma non per questo meno intensa. Tutti sono in trepidazione per scoprire la nuova formazione che ci accompagnerà in questa edizione. Alcuni indizi suggeriscono che potrebbe essere il turno di una certa giornalista del TG5 di lasciare il posto a qualcun altro. Qualcuno che ha già conquistato i cuori di molti. L. Isola dei famosi. Che colpo di scena. Vladimir Luxuria vuole la famosissima del GF. Cosa bolle in pentola. E mentre la suspense cresce. I fan sono allerta. Cercando di indovinare e scommettere su chi avrà l'onore di commentare le vicende dei naufraghi. C. Tra questi. Una figura emerge con prepotenza. Una donna che ha già dimostrato di saper tenere banco con la sua verve e il suo acume. C. Ebbene sì. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi. Pare proprio che la nostra amica dalla lingua affilata e dalla risata contagiosa possa essere l'asso nella manica per quest'anno. C. Nel frattempo, si sussurra che Vladimir Luxuria stia valutando attentamente ogni singolo pezzo del puzzle per creare una squadra di tutto rispetto. C. Non resta che aspettare l'ufficialità. Ma una cosa è certa. Le onde dell'isola si preparano ad accogliere delle personalità che non mancheranno di regalarci emozioni. Risate e forse anche qualche lacrima. C. La famosissima del GF a proda l'isola 2024 con un ruolo inedito? C. Quindi, teniamoci pronti per questa nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese. C. Chi salirà a bordo di questa nave alla scoperta dell'isola? Chi saprà navigare le acque a volte tranquille? A volte tempestose dei giudizi del pubblico? Una cosa è sicura. Le serate in prima serata non saranno mai state così appassionanti. Allacciate le cinture. L'isola dei famosi sta per partire e voi. Siete pronti a imbarcarvi? vorsori diforzare le citture. Siete pronti a non sto per a varicapare. Ilzeni ho scoperto dell'isola 20 canale. Grazie a tutti.